Benissimo, allora, avviata la registrazione e iniziamo. Mi presento di nuovo, sono Paola Sioli, sono la coordinatrice del corso di laurea magistrale in interpretazione, sono anche docente dello stesso corso, insegno interpretazione francese-italiano, francese verso l'italiano, sia consecutiva che simultanea e sono un interprete, professionista, lavoro in particolare per le istituzioni europee e anche sul mercato privato italiano. Non solo. Aggiungo così tra parentesi che sono stata una, sono una ex studentessa di questa, di questo istituto, di questa scuola. Parecchi anni fa, ahimè ormai, ho frequentato queste aule, quelle attigue a quelle che invece sono state illustrate nelle immagini che sono state passate in rassegna, di cui è stata fatta una carrellata all'inizio. Bene, allora, dicevo poco prima nella, nella introduzione generale che il nostro corso è un corso a numero programmato, 20 studenti al massimo e questo significa che c'è un test di ammissione. Il test di ammissione, non so se avete già consultato il sito, è fissato nel periodo 12-15 luglio. Ora abbiamo fissato queste quattro giornate, non sono quattro giornate di esami, non vi preoccupate, sarà poi stabilito un calendario in funzione del numero di iscrizioni, della combinazione linguistica dei candidati, tutta una serie di criteri di cui terremo conto e dopodiché gli iscritti riceveranno, scusate c'è un'altra persona in aula, in sala d'attesa, e chi si iscrive all'esame di ammissione riceverà comunicazione del calendario, link per accedere, perché gli esami si terranno comunque online. Abbiamo deciso di continuare con questa modalità per le ammissioni, riteniamo sia più semplice, anche speriamo di essere una situazione decisamente migliore a luglio, però per evitare magari una mobilità eccessiva, persone che stanno lontano, insomma abbiamo deciso di optare per questa soluzione che l'anno scorso ha funzionato molto bene, quindi la utilizziamo anche quest'anno. Test di ammissione, come dicevo prima, le lingue in cui dovete sostenere il test sono poi le lingue nelle quali seguirete i corsi, l'inglese è obbligatorio per tutti, questo non significa, lo dico subito perché nei colloqui che ho fatto in passato, spesso questa domanda mi è stata fatta, non significa che l'inglese è la prima lingua, voi dovrete scegliere una prima o una seconda lingua, si chiamano lingue B e C, mentre la lingua madre è l'italiano, che non necessariamente la lingua B è l'inglese, però l'inglese è obbligatorio. L'altra lingua, non chiamiamola seconda perché non è meno importante, può essere anche quella più forte, la scegliete tra francese, tedesco, spagnolo e nederlandese. Ok, allora ho deciso di fare questo percorso diciamo cronologico partendo dalle ammissioni, superata l'ammissione, vi scrivete, l'anno accademico non credo sia stata ancora fissata la data, ma normalmente è attorno alla seconda settimana di ottobre, quest'anno è iniziato il 10, il 12, non mi ricordo esattamente, comunque attorno a quella data. Nelle settimane precedenti, diciamo quindi da metà settembre, 20 settembre, si organizza un corso propedeutico, un corso propedeutico di due settimane in moduli, poi ora non è possibile ancora dare i dettagli perché non abbiamo il numero di scritti, le combinazioni linguistiche. Questo corso propedeutico a che cosa serve? Serve per innanzitutto, nella misura del possibile, darvi la possibilità un attimo di socializzare tra di voi, quest'anno si è svolto in presenza, poi purtroppo la situazione è peggiorata, ma il corso propedeutico si è svolto in presenza, quindi vi conoscete, che è molto importante, soprattutto in questa fase, e inoltre è un corso che fate tutti assieme, questo perché? Perché è importante definire, stabilire, offrirvi, nella misura del possibile, delle basi comuni da cui partire. Ovvio che ognuno di voi viene da percorsi diversi, qualcuno di voi avrà frequentato una mediazione linguistica, qualcun altro ha frequentato un'altra facoltà, quindi percorsi e contenuti formativi diversi. Ma queste due settimane ci danno la possibilità di creare un minimo di base comune e capire un po' da dove partire, poi quando si parte effettivamente attorno al 10 ottobre o quello che è, con i corsi effettivi. Poi partono i corsi effettivi. I corsi si organizzano, sono articolati su due anni, quattro semestri. Il primo anno, fondamentalmente, diciamo che gli insegnamenti e le materie sono costanti nel tempo. Il primo anno, diciamo, le materie fondamentali sono le materie di interpretazione, quindi interpretazione significa interpretazione consecutiva, interpretazione simultanea e traduzione a vista, che è una materia, un insegnamento importante, propedeutico alla simultanea, ma è insegnamento a sé stante, in cui avete degli esami, avete dei voti, però serve comunque anche per prepararsi e per, diciamo, esercitarsi, prendere scioltezza in vista della traduzione simultanea, dell'interpretazione simultanea. Quindi queste le materie fondamentali le fate dalle due lingue, l'inglese e l'altra lingua, verso l'italiano, e poi dall'italiano alla lingua B, quindi alla lingua più forte, che sceglierete come lingua più forte, che già, torno un attimo indietro, dovete precisare al momento dell'esame da missione, perché l'esame da missione assume una forma piuttosto che un'altra a seconda della vostra lingua B, vostra prima lingua. Dopodiché in primo anno avete anche un corso di traduzione dalle lingue straniere verso l'italiano, traduzione scritta quindi, corso che non c'è più nel secondo anno, solo nel primo anno, per questo serve a consolidare, a abituarvi a tradurre, a acquisire terminologia, vocabolario, conoscere vari settori che vi vengono proposti nei testi che dovrete tradurre. E come dicevo prima che tutti i docenti sono interpreti, quelli che insegnano interpretazione, anche i docenti che insegnano traduzione sono traduttori, quindi sempre vale questo messaggio importante del trasferimento non solo di conoscenze acquisite in modo teorico, comunque acquisite in passato, in cui magari ci si è laureati o altro, ma l'esperienza è quella che si matura nostra, che noi maturiamo e continuiamo a sviluppare tutti i giorni nel nostro lavoro, non da docenti, quindi da professionisti. Poi le altre materie sono metodologia dell'interpretazione, che avete sia in primo anno che in secondo anno, e poi ci sono due, un corso che c'è sia in primo o in secondo anno, cambia la denominazione, ma è fondamentalmente mirato all'italiano usato nella comunicazione orale, all'espressione orale, l'italiano applicato all'interpretazione. Quindi anche questi sono, scusatemi, corsi per entrambi gli anni. Poi avete un corso di relazioni internazionali, quindi di attualità internazionale, che può cambiare un po' contenuti a seconda anche dell'attualità, dell'evoluzione dell'attualità, e poi per il secondo anno invece un corso annuale, ma suddiviso in due semestri con tematiche diverse, di linguaggi settoriali, in cui si approfondiscono tendenzialmente nel primo semestre si fa linguaggio finanziario e nel secondo linguaggio scientifico, medico-scientifico, con possibilità poi di lievi varianti, a seconda di quello che propone il docente. Durante tutto questo percorso di studi, vige un sistema di valutazione continua. Questo significa che, visto che i gruppi sono piccoli, lo dicevo prima, considerate che prendiamo al massimo 20 studenti, ma tendenzialmente non arriviamo a 20. I gruppi sono piccoli, i gruppi d'inglese saranno massimo di 10 persone, ma anche di meno. I gruppi d'inglese perché tutti hanno inglese, quindi evidentemente vanno fatti più gruppi. Quindi c'è una valutazione continua perché il gruppo piccolo permette al docente di valutare continuamente lo studente, di valutarne la crescita o l'evoluzione, cosa migliora, che cosa non migliora, come intervenire per migliorare, che cosa correggere, suggerimenti da dare, potenziamento linguistico in una lingua piuttosto che nell'altra, e via di seguito. Valutazione continua, che però non è l'unica forma di valutazione, infatti ci sono comunque degli esami. Ci sono degli esami a fine primo semestre, a fine primo anno, a fine primo semestre del secondo anno, e poi ci sono degli esami finali al termine del secondo anno. E questo mi porta a parlare di un altro aspetto fondamentale, molto molto importante del nostro corso, che riguarda la collaborazione con le istituzioni europee. Noi abbiamo un protocollo di cooperazione, di assistenza pedagogica, assistenza didattica, come preferite, con le istituzioni europee, ossia Commissione europea, Parlamento europeo, Corte di giustizia dell'Unione europea. Che cosa significa questa attività di collaborazione? Significa che i funzionari interpreti della Commissione, del Parlamento o della Corte partecipano in qualche modo alla nostra attività formativa. Partecipano, per esempio, essendo presenti con la loro presenza all'esame d'ammissione. All'esame d'ammissione c'è sempre un funzionario della Commissione tendenzialmente presente o collegato online, come abbiamo fatto a luglio dello scorso anno e anche quest'anno. Poi ci sono dei momenti formativi, classi, nel senso di ore, lezioni, gestite dai funzionari interpreti che propongono una loro modalità didattica, che vi propongono discorsi, materiale, su cui lavorate, su cui traducete, insieme con loro, in presenza dei docenti, di alcuni dei vostri docenti, ma gestito da loro. Perché ci offrono questa opportunità? Perché, innanzitutto, preciso che siamo una delle tre università italiane che fruiscono di questo sistema di collaborazione e di assistenza didattica con le istituzioni europee. Per loro un investimento, investono su di noi, investono perché cercano di formare, di darci un contributo per la formazione di giovani interpreti che poi magari un giorno vanno a lavorare nelle loro istituzioni rispettive, Parlamento, Commissione o Corte di Giustizia. Per questo sono molto attenti. Quindi ci sono dei momenti didattici, proprio, dicevo, formazioni. A gennaio, normalmente, si organizza quella che viene definita una mock conference, una conferenza simulata, con la partecipazione attiva di tutti gli studenti, primo e secondo anno, in presenza, ancora una volta, di un funzionario della Commissione europea. Classi virtuali, vi ho già detto, classi virtuali vuol dire che loro sono collegati a distanza, noi o in università, se le condizioni ce lo permetteranno, speriamo, come si è fatto fino a poco tempo fa, o a distanza, come comunque abbiamo continuato a fare, abituandoci, insomma, attrezzandoci per lo scopo, ma ce l'abbiamo fatta, anche online, come dicevo. E poi, i funzionari di Commissione Parlamento partecipano, sono presenti in Commissione all'esame finale. L'esame finale è, diciamo, il piatto forte del vostro percorso formativo, il quale poi si concluderà percorso formativo con la discussione della tesi, ma diciamo che la parte più consistente, più importante, più impegnativa, anche impegnativa sicuramente, è l'esame finale, che comprende prove di interpretazione simultanea, consecutive, traduzione a vista, quindi proprio le materie professionalizzanti per un interprete di conferenza. Finito l'esame finale, superato l'esame finale, peraltro sono anche presenti, naturalmente, i commissari dell'Università di Strasburgo, perché, come diceva la direttrice nella presentazione generale, la laurea è rilasciata dall'Università di Strasburgo, quindi c'è il commissario dell'Università di Strasburgo che presiede allo svolgimento degli esami finali e fa anche la proclamazione dell'esito degli esami finali, che non è la proclamazione di laurea, la quale poi si fa successivamente a luglio. Tendenzialmente a luglio, perché gli esami finali si collocano in genere tra la metà e la fine di giugno. In quest'anno si faranno a fine giugno, l'anno scorso sono stati verso metà, insomma, la data è quella, più o meno. Tesi, tesi, laurea. Questo molto, molto rapidamente. Vediamo se ho dimenticato qualcosa. Ecco, no, sì, un'altra cosa, questa collaborazione con le istituzioni europee, oltre a questa attività che vi descrivevo, prevede anche una visita di studio degli studenti del secondo anno, normalmente a febbraio, presso le istituzioni europee. Sono tre giorni che passano a Bruxelles, due giorni alla Commissione, uno al Parlamento, con presentazioni generali, ma entrano in cabina gli studenti, in cabina muta, si chiama cabina muta. Cosa significa? Che entrano in una cabina affacciata sull'aula, nella quale si sta svolgendo un dibattito, una riunione, una conferenza, un'audizione, qualsiasi cosa, e provano a cimentarsi nell'interpretazione degli oratori che sentono in quel momento muta perché non accendono il microfono. È una situazione protetta di esercitazione e lo si fa sempre sotto la supervisione dei funzionari interpreti di Bruxelles, quindi delle istituzioni. Quest'anno, purtroppo, quest'ultimo febbraio, non è stato possibile organizzare la visita in presenza. Si è organizzata una visita di studio online, sempre, appunto, nello stesso modo, sono stati proiettati attraverso una piattaforma ad hoc nelle riunioni effettive, hanno provato a tradurli. Certo, non è esattamente la stessa cosa, però, insomma, per voi diciamo che ci sono buone speranze che si possa ripristinare la visita in presenza da qui, insomma, a due anni, quando sarà eventualmente il vostro turno. Ecco, questo era l'unico aspetto della collaborazione con le istituzioni che mi ero dimenticata. Molto rapidamente ho finito. Poi mi verrà sicuramente in mente qualcos'altro, ma lascerei eventualmente, se volete, la parola a voi per domande, curiosità o qualsiasi cosa che non fosse risultata chiara. Magari, se intervenite, quando intervenite, vi presentate oltre al nome, mi dite anche da dove venite, cosa state frequentando in questo momento, che cosa avete frequentato in passato, in modo, se volete. Grazie. A voi la parola. Buongiorno. Buongiorno. Non accendo la webcam perché la mia connessione... Nessun problema. La sentiamo bene. Ok. Io mi chiamo Agatha Abram e vengo dalla Carlo Bo di Bologna. Volevo sapere se è previsto un tirocinio. No. Il percorso, il corso no. Non prevede tirocinio. È molto incentrato sulla formazione pratica, su tanto esercizio, tanto lavoro in aula, tanto lavoro in aula di simultanea, non solo. Tanto lavoro anche a casa, tra di voi. I nostri gruppi, essendo piccoli, statisticamente nella storia, creano veramente tantissime interazioni all'interno del gruppo, per cui gli studenti si organizzano o in presenza, quando eravamo in presenza, in aula, le strutture della scuola sono a disposizione vostra o anche online. Ora si stanno esercitando anche online, su Zoom o altro. Però non ci sono tirocini. Ok. Già che ci sono, avrei un'altra domanda. È possibile, tramite, non so, magari corsi a scelta, perché immagino che ci saranno, fare anche, insomma, consecutive simultanea, attiva per la seconda lingua? Allora, in secondo anno. Questa è la nostra, non è vietato, naturalmente, allora faccio una precisazione, quando si tornerà in presenza, dobbiamo tenere conto, adesso vedremo anche quali saranno i protocolli post-Covid per le cabine, perché noi abbiamo delle cabine di simultaneo, si sono intraviste nel video di prima, in cui prima, nella nostra vita passata, prima del Covid, si lavorava in due, c'era una piccola parete, c'era una parete, si stava in due. Questo sviluppava, moltiplicava i posti disponibili. Adesso, purtroppo, non è possibile, ci vuole uno studente per cabina per questioni sanitarie. Questo limita un po' la disponibilità di aule. Ci sono per tutti, però ci sono per tutti gli studenti che hanno diritto. Se un corso d'inglese ha già i suoi dieci, otto, nove studenti, non c'è magari il posto fisico per partecipare. In ogni caso, è un'opzione che lasciamo al secondo anno, in considerazione dell'andamento nelle lingue effettive. Cioè, se uno studente è solido nelle lingue effettive, per il secondo anno si può eventualmente prevedere questa possibilità. Aggiungo un'altra cosa, bisogna tenere conto della compatibilità degli orari. Cioè, se voi avete lezione di inglese quel giorno lì, dalle nove alle undici, e volete frequentare anche spagnolo, perché la vostra seconda lingua è tedesco, e avete spagnolo tra le nove alle undici, non potete. Cioè, dovete frequentare i corsi obbligatori, perché c'è frequenza obbligatoria. La frequenza è obbligatoria. Di quello se ne può parlare. Non è escluso, dobbiamo valutare tutta una serie di elementi. Ok? Va bene, grazie mille. E comunque c'è una possibilità che offriamo agli studenti laureati, la possibilità anche post laurea, di iscriversi a un corso ridotto che si chiama Due insegnamenti. Per esempio, mettiamo il caso, quali sono le sue lingue, Agatha? Io farei inglese come prima lingua e tedesco come seconda. Ok, mettiamo che lei voglia seguire spagnolo, a caso. Si laurea in inglese e tedesco, l'anno dopo, cioè l'ottobre dopo, può chiedere di scrivere, anche dopo dopo, ecco, non è che scade questa possibilità, può chiedere di seguire i corsi di spagnolo, seguirà solo simultanea e consecutiva e può, alla fine riceve un attestato di frequenza, se si è partecipato e con il consenso dei docenti e si fa. Ok, va bene, grazie mille. Prego. Allora, intanto leggo una domanda in chat di Laurea Crivellari. Ok, no, non è una doppia laurea, è una laurea francese. Quella che rilascia l'Università di Strasburgo è una laurea francese. Va bene, grazie mille. Prego, lei. Buon pomeriggio, io sono Gabriele, vengo da Firenze, ma studio al Dipartimento di Forlì. di Mediazione. Volevo chiederle sull'esame di ammissione, qualche informazione in più. Sì, giusto, giusto. Allora, l'esame di ammissione due lingue, le vostre due lingue, come dicevo prima, in sede d'esame, dovete precisare la mia lingua, la prima lingua è l'inglese e la seconda è tedesco, per modo di dire. Ciò detto si compone come segue. C'è una prima prova di lingua, di italiano, perché anche l'italiano, scusate, faccio una breve parentesi per un interprete, è molto importante, non anche l'italiano, soprattutto l'italiano, è molto importante. Vi dovrete esprimere in questa lingua, è la vostra lingua madre, e va curata, va conosciuta bene. Oltre alla lingua bisogna anche conoscere l'attualità. Allora, prima prova di italiano, in che cosa consiste? vi viene letto da uno dei membri della commissione un testo in italiano, una paginetta, un articolo di attualità, di attualità recente, generico, senza troppi dettagli, e vi si chiede di farne una sorta di memorizzazione. Se avete fatto la mediazione linguistica sapete di che cosa sto parlando, quindi ascoltate senza prendere appunti e ne fate una sintesi per punti, per contenuti, rielaborando e riproducendo il testo. Dopodiché vi possono essere posta delle domande su questo testo, domande sulla lingua, ricerca di sinonimi, parafrasi, riformulazione e domande anche di contenuto rispetto all'attualità e al contenuto di cui tratta quell'articolo, quel breve intervento. Questo per italiano. Poi passando alle lingue, per tutte e due le lingue, quindi tedesco e inglese, per inglese e tedesco, c'è una prova di traduzione a vista dalla lingua verso l'italiano, dalle due lingue verso l'italiano. C'è una prova di, la chiamiamo traduzione di frasette brevi proprio per testare la vostra reattività. Vi faccio un esempio in francese, ve lo faccio in inglese visto che magari non tutti sanno il francese. Good morning, Mr. President. It's a great pleasure to be here today. Buongiorno, signor Presidente. Un grande piacere essere qui oggi. Today I would like to talk about environment. Oggi vorrei parlare del clima e via di seguito. Subito, reazione veloce, traduzione veloce dalle due lingue verso l'italiano. Poi per la lingua B, cioè quella che sarà la vostra lingua attiva, c'è un'altra prova, quindi una sola in questo caso. Vi viene presentato un foglio o un condiviso sullo schermo, in questo caso un testo, mettiamo in inglese. Voi lo dovete leggere ad alta voce, in questo modo verifichiamo la pronuncia, l'intonazione, tutte queste cose. Poi senza guardare il testo, lo riassumete sempre in inglese. sera inglese, in inglese, sera francese, francese, via di seguito. In questo modo appunto verifichiamo la vostra capacità di espressione orale in quella lingua, quella in cui voi sarete chiamati a lavorare in maniera attiva. Fine delle prove linguistiche, alla fine del colloquio c'è un breve scambio, un colloquio motivazionale in cui ci spiegate un po' quali sono le vostre aspettative, perché avete scelto quel percorso, che cosa vi interessa. Ecco, vi presentate un pochino. Ho risposto? Assolutamente, grazie. A lei. Buongiorno. Buongiorno. Io sono già, mi studio alla Scuola Intervoli di Trieste e volevo chiederle se si possono trovare le prove degli anni passati, magari. Questo lo verifico con la responsabile della gestione del sito. Lo verifico con lei. Senz'altro le ricordo di pubblicarle se già non è stato fatto. tenete controllato il sito per queste cose. Comunque, faccio una breve parentesi prima di sentire gli altri. Prima è stato inserito nella chat generale il mio indirizzo mail. Comunque lo riscrivo qui a tutti. Per qualsiasi... Allora, sì, prima hanno messo quello coordinamento, comunque uguale, va bene. vi do anche questo così li avete tutti e due, Fondazione Milano EU. Potete scrivermi per qualsiasi domanda, curiosità, qualsiasi cosa che vi venga in mente domani, tra un mese, tra una settimana e se siete interessati io sono disponibile a organizzare dei colloqui su Skype in cui ci possiamo vedere uno a uno e potete fare tutte le domande che vorrete. D'accordo? Previo appuntamento. mi scrivete e ci mettiamo d'accordo per trovare un attimo per incontrarci. Ok, altre domande? Buongiorno, io mi chiamo e studio anche io a Trieste alla scuola interpreti e vorrei sapere se è previsto nei due anni uno scambio Erasmus? No, l'Erasmus è in triennale. al terzo anno della triennale quindi cosa che voi avete già fatto o state facendo no, non c'è Erasmus. Va bene, grazie. Prego. non abbiate paura in qualsiasi domanda anche la più banale è utile poi magari ne può suscitare delle altre quindi abbiamo collegata anche Ilaria che è la responsabile della segreteria studenti per la magistrale Ilaria non c'è più l'ho citata scompata ah ecco buongiorno all'indirizzo segreteria studenti che trovate sul sito potete scrivere più che altro in questo caso per informazioni amministrative rette vero Ilaria non so se quali sono i quesiti che vi arrivano normalmente sì la retta scolastica hanno modo tutti di fare una simulazione di quota attraverso il nostro sito quindi c'è un bottone dove lì inserendo il vostro valore ISE potete avere una così un'idea di quella che potrebbe essere la vostra retta annuale questo per tutti i corsi c'è questa possibilità e non so se hai già parlato dell'iscrizione perché sono arrivata da poco le date no no ho indicato le date delle emissioni però no no se vuoi fornire qualche indicazione sulle modalità non è ancora la modalità è a distanza è online quindi non appena saranno effettivamente aperte le date sono già sul sito ma non appena stiamo aspettando alcune diciamo conferme formali per poter poi pubblicare le date il periodo che avrete a disposizione per potervi collegare attraverso un link registrarvi all'interno del sistema che gestisce poi le iscrizioni quindi formalizzare la vostra iscrizione versando la quota ad ammissione e quindi da quel momento siete iscritti quindi questo avverrà al più presto ecco sicuro penso entro fine mese o al massimo all'inizio di aprile comunque come ha detto la professoressa non appena tenete d'occhio il sito e quindi appena sarà tutto pubblicato vuol dire che sarà definitivo nel frattempo per questioni appunto amministrative eccetera la segreteria a studenti è a disposizione per tutte le questioni di didattica sempre la coordinatrice professore Sassioli ok grazie Ilaria poi dopo dopo la missione anche in quel caso in caso di superamento loro hanno un link che utilizzano per iscriversi superamento in che senso il superamento della prova da missione una volta che viene superata viene fatta la graduatoria in base alle combinazioni linguistiche e poi hanno anche in quel caso un link che utilizzano per l'iscrizione sì poi comunichiamo singolarmente al numero l'esito ammesso non ammesso ovviamente e poi di conseguenza agli ammessi vengono date le indicazioni per poter formalizzare l'iscrizione al corso vero e proprio ok perfetto grazie Ilaria figurati buongiorno buongiorno Stefano sono laureato in statale a lingua e letteratura straniere e volevo capire meglio per quanto riguarda la frequenza obbligatoria perché immagino appunto per il tipo di corso che appunto è fondamentale e quindi capire quali siano gli orari settimanali per se si ha un lavoro e quindi bisogna vedere di trovare appunto la possibilità di avere il quinto per cento ecco certo allora è tollerato un margine di assenza naturalmente che è del venticinque per cento io posso dirvi diciamo che si considera è importante è importante per voi la presenza e la frequenza perché è un lavoro pratico quello che si fa assieme poi potete esercitarvi anche da soli e dovete farlo però è un corso prettamente pratico allora gli orari dipendono un po' variano un pochino ogni anno ogni semestre addirittura a seconda degli incastri tra disponibilità di docenti aule e tutto quanto però diciamo che la fascia oraria in cui si svolgono i corsi è dalle nove alle cinque del pomeriggio quattro e mezzo cinque non avete mai la giornata completa è raro forse forse sì sei alle otto ore si arriva difficilmente non so Ilaria se tu hai forse in casi in casi le sei ore sì forse però non tutti i giorni insomma capita il giorno in cui avete sei ore il giorno in cui ne avete quattro è un po' diciamo a mosaico l'orario non è un orario dalle nove alle cinque tutti i giorni tutte le settimane tenete conto anche che c'è questo aspetto che i docenti proprio perché sono professionisti possono avere degli impegni di lavoro che causano la loro assenza dalla lezione ma la lezione viene spostata e viene recuperata previo accordo con gli studenti si trova un buco un momento in cui tutti gli studenti che hanno a cui è saltata quella lezione la si inserisce e si recupera quindi questo non va assolutamente a scapito del vostro monte ore o dell'impegno che vi è richiesto lavorando bisogna un pochino fare i conti con la disponibilità di tempo sia per la frequenza sia per per l'esercitazione e lo studio a parte grazie grazie a lei grazie professoressa buongiorno buongiorno sì buongiorno Laura di nuovo vorrei chiederle nel caso in cui le lezioni continuassero ad essere in presenza con la simultanea come si farebbe nel senso che è necessaria la presenza di una è necessario l'uso di una cabina di una serie di attrezzature quindi mi chiedevo solo per curiosità in presenza dice scusi no scusi a distanza sì sì volevo dire online ok allora in presenza auspichiamo di tornarci presto di rimanerci ma attualmente siamo a distanza avevamo cominciato con tutta la buona volontà il 22 febbraio secondo semestre è andata avanti dieci giorni e poi basta siamo rimasti a casa comunque ed avevamo invece aperto anche lì un due o tre settimane a ottobre e poi di nuovo a fine ottobre ci hanno costretto a stare a casa allora lavoriamo a distanza anche in simultanea per forza perché diversamente mancherebbe un mattone fondamentale della vostra formazione e stiamo utilizzando una piattaforma professionale che è stata preesistente ideata da un esperto insomma da una persona che fa questo lavoro e che l'ha adeguata alle nostre esigenze didattiche proprio per dare la possibilità al docente di ascoltare gli studenti adesso non entro nel dettaglio comunque abbiamo una piattaforma che ci permette di lavorare a distanza ho capito molto più faticoso ma come più faticoso tutto insomma diciamo che la vorremmo tenere come come soluzione di ripiego come rete di sicurezza e non utilizzarla come attività quotidiana però c'è ci sarà e penso che comunque rimarrà una cosa importante perché ci permetterà magari non lo so un recupero che non si riesce a fissare in presenza un'attività con un docente lontano con la Commissione Europea con il Parlamento Europeo rimarrà comunque un un grande strumento uno strumento molto prezioso a nostra disposizione speriamo di poter però recuperare le nostre buone vecchie impolverate cabine che ci mancano tanto aspetto grazie mille a lei buongiorno buongiorno sono Rebecca Nardo e sto studiando alla LIMEC di Milano ehm voglio un'informazione per quanto riguarda l'iscrizione io mi posso iscrivere anche se non mi sono ancora eh cioè non ho ancora discusso la tesi perché probabilmente teoricamente se tutto va bene per ottobre dicembre dovrebbe essere la discussione è un problema iniziare no assolutamente c'è un margine d'attesa a maggior ragione in questo periodo perché ci sono stati vari ritardi ehm fino a dicembre sicuramente ma possiamo anche tollerare fino alla fine cioè fino alla sessione di esami dell'anno di corso quindi addirittura a febbraio giusto Ilaria anche aprile anche aprile massimo aprile massimo aprile con la tua autorizzazione motivandolo con una richiesta specifica fino a massimo aprile dell'anno successivo quindi perfetto c'è un ampio margine grazie mille a lei quindi ha tutto il tempo di laurearsi con con tranquillità ok ehm se no si no era questa cosa della laurea effettivamente l'avevo in mente ma ha fatto bene a ricordarmelo perché non me l'ero segnata e mi era sfuggita non so se ci sono altre curiosità ehm rispetto alle lingue rispetto alle opportunità rispetto a qualsiasi cosa alla professione mi scusi sono di nuovo Agata sì certo prego avrei un'altra domanda sì può per favore spiegare come sono organizzate le lezioni a livello di orari nel senso quante ore di simultanea si fanno a settimana sì giusto giusto ha ragione ha ragione ha ragione eh volevo dirlo prima quando ho insomma fatto la carrellata sulle lezioni ma non sono entrata nel dettaglio allora simultanea adesso dunque partiamo dalla simultanea sì per le lingue passive ossia lei che lingue ha così facciamo l'esempio pratico me l'ha detto già prima mi sono dimenticata inglese tedesco giusto inglese tedesco sì perfetto allora inglese lingua B giusto prima lingua sì esatto si esatto perfetto prendiamo il suo caso avrà 4 ore di simultanea dall'inglese in italiano 4 ore di simultanea dal tedesco in italiano e poi avrà 2 ore di simultanea dall'italiano all'inglese ok consecutiva avrà 2 ore di consecutiva dall'inglese in italiano 2 ore dal tedesco in italiano e due ore dall'italiano all'inglese. Totale, non l'ho fatto, sono sei, quattro, sei, dieci, dovrebbero essere dieci, dieci ore di simultanea la settimana. Scusi, dieci ore di simultanea e otto di consecutiva. Ecco, scusi, puoi ripetere le ore di consecutiva? Sì, le ore di consecutiva sono due ore dall'inglese in italiano, due ore dal tedesco in italiano e due ore dall'italiano in inglese, per lei, per quanto riguarda l'inglese attivo. Ok, perfetto, grazie. Le lezioni di traduzione a vista che ho citato prima non hanno una loro ora, diciamo, sono incluse nel monte ore che ho citato. È il docente poi che le inserisce, normalmente è il docente di simultanea, essendo la traduzione a vista, detta anche TAV, traduzione a vista, propedeutica alla simultanea, ma non è detto, dipende, magari, non so, invece in consecutiva fa un testo su, non lo so, le lezioni americane per dire, poi trova un testo adeguato alla traduzione a vista, sempre sullo stesso tema e inserisce nella lezione in consecutiva la traduzione a vista. Viene fatta, ecco, con una certa scadenza, scusate, non scadenza, cadenza e frequenza durante tutto il percorso di studi, proprio perché, come vi dicevo prima, avete degli esami anche di traduzione a vista, un esame a sé stante. Ok, va bene, grazie. Sì, prego. Sì, sì. Scusi. Prima ha detto che al primo anno si fanno anche delle lezioni di traduzione, giusto? Sì, due ore, due ore, due ore dall'inglese, due ore dal tedesco. Ok. Verso l'italiano, solo passiva, non si fa traduzione verso la lingua straniera, no. Va bene, ok, grazie mille. Prego. Scusi, buongiorno. Buongiorno. Mi chiamo Polin e mi dovrei laureare adesso a breve alla Scuola Superiore di Mediazione Linguistica Vittoria, Torino. E volevo chiedere, quindi l'italiano ci sarà sempre, non si farà mai magari un po' di incrociata magari tra lingua A, B e C, giusto? No, no. Ok, l'italiano è... Non è previsto dal piano di studi, non è previsto dal piano di studi. Ciò non toglie che può seguire una lezione, esercitarsi in maniera autonoma, ma non c'è l'insegnamento, no. Va bene, grazie mille. Prego. Buongiorno. Buongiorno. Mi chiamo Anais e studio all'FT di Ginevra. Volevo sapere, quindi la combinazione è sempre A, B, C. Non c'è la possibilità di fare tre lingue? C. Ok. No, ecco, c'è la possibilità informale, come dicevo prima rispondendo alla domanda di qualcuno, di seguire nella misura del possibile, compatibilmente con l'orario, oppure dopo addirittura la laurea con questa formula dei due insegnamenti, una terza lingua. Però diciamo che non c'è nel percorso di studi. Voi la laurea la ottenete con una lingua B, una lingua A, naturalmente, una lingua B, una lingua C. E anche l'esame finale. Ok, perfetto. E per la terza lingua, nel caso si decidesse più avanti poi di, dopo qualche anno di fare il corso appunto per la terza lingua, viene rilasciato un certificato? Un attestato di frequenza, sì. Perfetto. Quello poi lo si vede nel momento in cui ci sarà. Attualmente sì, ecco, non le posso garantire che tra cinque anni ci sia la stessa opzione, non lo so. Attualmente c'è questa possibilità. Perfetto, grazie mille. E credo continuerà a esserci, però ecco, non glielo posso garantire con certezza al cento per cento. Prego. Sì. Null'altro. Professoressa, sono ancora io. Sì, prego. Vorrei chiederle gentilmente di ripetere le dieci ore di simultanea, come sono ripartite? Allora, la simultanea, quali sono le sue lingue? Così facciamo l'esempio. Inglese e francese. Ok, prima lingua inglese o francese? Prima lingua inglese. Inglese, perfetto. Allora, lei avrà quattro ore di simultanea inglese-italiano. Quattro ore di simultanea francese-italiano. Due ore di simultanea italiano-inglese. Ok, italiano e inglese, solo la lingua B. Esatto, sì. Verso il francese, se è lingua C, non fa l'attiva. Ho capito, ho capito, grazie. Prego. Null'altro. Ecco, è stato già, non so, credo, sì, è già stato forse indicato sul sito, è da mettere a punto questa proposta, però ci sarà la possibilità di organizzare, sarà organizzata sicuramente una cosiddetta open week. e probabilmente anche delle lezioni aperte, ora non abbiamo ancora i dati, i dettagli, non vi posso dire da quando, dobbiamo mettere a punto ancora alcuni aspetti formali, essendo la cosa online, dobbiamo mettere a punto tutta una serie di formalità, di dettagli e organizzare l'offerta, la proposta in modo molto preciso, però c'è questa possibilità e se avete tempo e voglia vi consiglio di collegarvi, anche questo saranno indicate tutte le istruzioni sul sito, l'indirizzo a cui iscriversi per prenotarsi, perché naturalmente bisogna prenotarsi, in modo che possiate avere il link per accedere tutto quanto, è evidente, ma vi consiglio di farlo, per avere un'idea di come si svolgono le lezioni, del numero di studenti, dei contenuti, del livello, ecco, potete farlo sia per le lezioni del primo anno, sia per le lezioni del secondo anno, anche in funzione magari degli orari in cui siete liberi, però vi consiglio ecco di ricorrere a questa possibilità perché avete un'idea più concreta del lavoro che facciamo e quindi vi incoraggio a farlo, non appena sarà possibile tutte le informazioni saranno disponibili sul sito. Velocemente un ultimo dubbio forse, tendenzialmente quali combinazioni linguistiche vengono attivate? Perché ogni persona sento che ha una combinazione diversa e quindi... Sì, no, allora, attualmente le posso dire che quest'anno gli anni sono attive attualmente, inglese evidentemente per tutti, francese, tedesco, spagnolo. Nederlandese è offerto, ma quest'anno non è stato attivato, non c'erano richieste, non c'erano candidature. I corsi vengono attivati, però, questa è una cosa importante, solo in presenza di due studenti, cioè se è uno studente solo, per esempio, che si presenta con inglese e nederlandese, dico nederlandese perché è una lingua più rara, insomma, normalmente nelle altre lingue il numero c'è, abbiamo almeno due studenti di spagnolo, di tedesco, di francese, devono esserci due studenti, però queste sono le lingue. Se l'anno prossimo, se all'esame di luglio si presentano due, tre, quattro con nederlandese e lo passano, il corso viene attivato. Noi abbiamo i docenti pronti ad agire, a diventare operativi. Professoressa, ma allora, questa combinazione vale anche per l'ordine della lingua, nel senso che se io, per esempio, volessi il francese come prima e l'idea come secondo, dovremmo essere minimo due? No, 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 è la combinazione, non è il senso della lingua. Quindi l'ordine non conta? No, 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 nel senso che se lei si scrive con inglese e francese o francese-inglese, mi sembra di intuire, lei rientra nel gruppo dei francesisti. Nel momento in cui abbiamo due francesisti, il corso parte, che poi uno dei due francesisti abbia il francese attivo e l'altro l'inglese attivo, poi sarà nella lezione attiva, che sarà da solo, ma il corso parte. D'accordo, grazie. Sì, sì, noi abbiamo questi gruppi, diciamo, il gruppo dei francesisti, dei germanisti e degli spanisti, e poi c'è chi fa la lingua attiva e chi invece ha l'inglese attivo, ma il gruppo a quel punto è costituito. Non so se non avete nessun'altra domanda, però io ho tempo, non voglio assolutamente chiudere. Prego, prego Esther, prego. Magari pare brutto chiederlo, ma indicativamente quante persone provano il test? È variabile, è variabile. Non c'è una... Allora, le posso dire questo, che quest'anno, per la seconda volta, è stata una novità dell'anno scorso, abbiamo abolito gli esami scritti. Precedentemente c'era una prima tranche, una prima fase, uno primo step di esami scritti, che costituì una prima scrematura. E poi chi superava lo scritto passava all'orale. Ci siamo resi conto che non era un sistema efficace, in quanto ci siamo resi conto che si rischiava di fermare qualche candidato potenzialmente bravo nell'orale, che poi l'orale è la cosa che interessa per un interprete, magari meno raffinato, meno preciso sulla traduzione, e magari far passare qualcuno che era più portato, più preciso sulla traduzione, ma che poi aveva scarsa capacità di espressione orale, scarsa vocazione, vocazione nel senso inclinazione, per questo tipo di lavoro. Quindi abbiamo deciso di fare solo prove orali. L'anno scorso, ma l'anno scorso era anche un anno molto particolare, non che questo sarà molto diverso, ma non mi ricordo quanti erano stati i candidati iscritti, ne abbiamo messi 16 quest'ultimo luglio, credo almeno una quarantina, però non mi ricordo. L'anno prima erano di più, però c'era questa questione del test scritto, anche perché il test scritto era anche quello che sostenevano i candidati al corso di traduzione, per cui qualcuno poi si poteva tenere le due opzioni aperte, cosa che è possibile, se voi siete indecisi potete comunque iscrivervi a due ammissioni con due percorsi diversi, farete il percorso prova scritta per la traduzione, il percorso prova orale per l'interpretazione, poi decidete, se siete ammessi l'uno o l'altro la scelta è obbligata, se siete ammessi per tutte e due le lauree i corsi potete poi scegliere. Ho risposto? Quindi non so dirle, ecco, esattamente, non so dirle nel senso che non c'è una statistica sempre uguale. Per l'ammissione vi consiglio, ovvio che bisogna sapere le lingue, questo lo sapete meglio di me, attenzione all'attualità, leggete, informatevi, perché è una cosa fondamentale per un interprete, non solo per un interprete, ma parlo per gli interpreti, essere aggiornato nella misura massima possibile sull'attualità, perché quando si traduce, e l'interprete traduce in quel momento, non ha tempo di leggere una notizia e dire cosa è successo, me la vado a cercare, la devo sapere, non nei dettagli probabilmente, però la devo sapere, devo inquadrarla storicamente nel momento. La conoscenza storica, la competenza storica è fondamentale per un interprete. Quindi, non sto parlando di andare a studiare la seconda guerra mondiale o altro, l'attualità, cosa succede nel mondo, cosa succede a livello politico, economico, non so, vi do un esempio, a settembre ci saranno le elezioni in Germania, sicuramente questo sarà un tema di cui si parlerà, si parlerà nel senso che ci potrà essere la traduzione a vista, le traduzioni rapide, una domanda su questa cosa, cosa succederà, non lo so, da qui a quest'estate non so cosa succederà, ci saranno altre notizie, altre attualità, è importante sapere, l'attualità europea, anche andatevi a vedere un pochino come funzionano le istituzioni europee, il presidente della Commissione, il presidente del Parlamento europeo, sede del Parlamento, sede della Commissione, sede della Corte di Giustizia, perché è anche la politica, la politica, non solo politica, l'attualità italiana, Montecitorio che cos'è, Palazzo Madama che cos'è, che tipo di Repubblica è la Repubblica italiana, che tipo di Repubblica è quella francese, per un candidato più probabilmente del gruppo francesista, quindi mi sento proprio di raccomandarvi questa cosa, perché diamo molto peso alla preparazione culturale, e alla curiosità, quindi in questo anche per rassuscitare un pochino la vostra curiosità, rispetto a quello che succede nel mondo, anche in Italia, non guardiamo solo oltreoceano, anche vicino a noi. Non so, per esempio, ci saranno le elezioni municipali, amministrative, a Milano, candidati, saranno già state probabilmente, queste cose, insomma attualità, essere presenti nella realtà, nella realtà che ci circonda. L'importante sia per gli interpreti, ma per i cittadini in genere, solo che è anche un elemento di cui teniamo conto nel momento delle prove. Perché un interprete, a differenza del traduttore, deve proprio reagire al momento sull'informazione, non ha tempo di fare ricerca. La ricerca la fa prima, prima di andare a fare un lavoro, deve prepararsi, deve studiare, e questa cosa è una caratteristica importante di cui dovete essere coscienti. È un lavoro che comporta uno studio permanente, continuativo, non è l'unico. Bisogna sempre aggiornarsi, sempre informarsi, anche su questioni molto specifiche. se devo tradurre un intervento di un veterinario che parla della resistenza antibiotica agli antibiotici delle pecore in Francia, devo prepararmi su quello. Il giorno dopo avrò il dibattito al Parlamento europeo su recovery fund. Poi queste non sono informazioni che restano sempre in testa. Spesso per interprete funziona molto una memoria a breve termine. Oggi mi studio le pecore, non è che poi le pecore me le ricordo per il resto della vita. Il giorno dopo però deve essere pronta a imparare un'altra cosa. Ed è anche una bella cosa, insomma, è molto stimolante, non è mai noioso come lavoro, un po' stressante, qui e là, ma non è mai noioso. La noia è proprio una cosa che non conosciamo. Si viaggierà meno, alcuni vengono all'esame da missione, dicono mi piace viaggiare, voglio farli interprete, si viaggierà meno in futuro. Non è del tutto male, secondo me. Certo, è bello anche viaggiare, è bello vedere posti nuovi, a una certa età comincia a stancare, però insomma, al di là di questo, viaggiare o no, auspico proprio che si possa tornare a lavorare, non solo noi, ma in riunioni in cui la gente si parli, si confronti, si guardi in faccia, si stringa la mano, perché è un'altra cosa, la comunicazione passa meglio. Questo ho divagato un po'. Non so se l'hai già fatto e se ti fa piacere, è già nata la tua esperienza presso professionale, visto che sei una grande professionista di tutto il settore? No, ho detto solo che faccio l'interprete, in particolare per le istituzioni europee, non sono grande, sono piccina. Sei piccina, ma una grande professionista, quindi umile, ma molto grande, e quindi se è piacere anche di raccontare qualche, così, esperienza che hai avuto, i tuoi inizi, o, ma sì. Qualche evento importante di cui sei stata una preziosa risorsa, potresti raccontare? Spero, sì, no, grazie Ilaria. Sì, è una professione che mi piace molto, l'ho intrapresa con grande entusiasmo, e in realtà avevo deciso di fare, no, di fare l'interprete, no, perché non sapevo ancora cosa fosse, però quando ho iniziato a studiare inglese alle medie, adesso, voi che siete più giovani, sono iniziate prima le elementari, io allora ero iniziato in prima media, quando ho fatto la prima lezione di inglese, ho detto, ma quella è la mia strada, cioè mi ero lì affascinata, bacinata da questa lingua. Poi sono passati degli anni, e diciamo, nel corso degli anni del liceo, ho capito, liceo linguistico, ho capito, ho deciso che avrei voluto fare l'interprete, allora si diceva l'interprete parlamentare, non è una definizione corretta, ma vabbè, insomma, l'interprete di conferenza. Al che appunto mi sono iscritta all'esame di ammissione alla scuola, dove attualmente insegno, e anche di cui coordino il corso di laurea magistrale, l'ho detto rapidamente prima, ho fatto il mio percorso in una struttura completamente diversa, un corso molto più breve, non dava la laurea, comunque poi mi sono laureata in lingua per avere una laurea, successivamente, e ho cominciato a lavorare sul mercato privato, abbastanza subito, abbastanza presto, sia facendo traduzioni, sia lavorando come interprete. Poi però avevo un sogno, avevo un sogno che era quello di lavorare per le istituzioni europee. Durante l'ultimo anno di scuola interpreti, avevamo fatto la visita di studio al Parlamento europeo, e allora tanti anni fa c'era stato detto, ancora le lingue dell'Unione europea erano molte meno, perché adesso sono 23-24, allora erano, non mi ricordo quante esattamente, ma poche, meno. E allora c'era stato detto, dall'allora capocabina italiana del Parlamento europeo, che le lingue deficitarie, in quel momento, erano il greco e il danese. Il greco, come Ilaria sa, ho detto di no, perché io non ho fatto il classico, l'idea di studiare un alfabeto, no, no, non mi interessava il greco. L'ho studiato danese, mi sono messa a studiare a un corso di danese dell'istituto di cultura danese, che c'era allora a Milano, proprio dietro il Piazza del Duomo, ho frequentato questo corso, ci è voluto tantissimo tempo, perché il danese è una lingua molto ostica, dal punto di vista fonetico, allora non c'era internet, ho dovuto, ho dovuto, ho dovuto, barra voluto, mi è piaciuto molto passare dei lunghi periodi in Danimarca, on and off, ci è voluto parecchio tempo, ma alla fine, insomma, ho imparato questo benedetto danese, imparato, insomma, è una parola grossa, continua ad impararlo, continua, come dicevo prima, l'apprendimento è continuo, però l'avevo studiato, iniziato a studiare, portato avanti, proprio per questa idea di iniziare a lavorare per le istituzioni europee. Dopo un po' di anni, ho sostenuto il test, come freelance, cioè come collaboratore esterno, e l'ho superato, e da allora lavoro abbastanza regolarmente, inizialmente più per la commissione, poi un po' per entrambi, adesso più per il Parlamento. e poi ho studiato come terza lingua il tedesco, per cui dopo un po' di tempo ho riesumato il tedesco, l'ho tirato fuori dal cassetto e ho aggiunto il tedesco. Adesso purtroppo è un po' che non sto andando, per i motivi che ben sapete, però insomma conto che con l'estate o presto sia possibile riprendere questo lavoro. No, in istituzioni europee sì, io avevo questo sogno, è sicuramente un ambiente molto stimolante, il cuore della politica europea, occasioni in cui sono stata preziosa, non lo so, sono stata preziosa come tutti gli altri miei colleghi, però ho visto il Papa in plenaria a Strasburgo, ho tradotto l'Onde, la Merkel, i vari presidenti di commissione, la Ursula von der Leyen, prima di lei chi era quello? Lussemburghese mi sfugge, ah, santo cielo. Juncker. Brava, Juncker, mi veniva in mente Delors, che invece era molto precedente, ma Juncker con tutte le sue lingue che parla, tutte un po' bizzarre. Sì, no, interessante, è bello sicuramente, dopodiché è bello anche lavorare per i veterinari che parlano di pecore, è bello lavorare per chiunque, insomma, per mettere la comunicazione tra culture e persone diverse, è molto interessante, continua a piacermi, ecco. Come dice prima, mi piacciono un po' meno i viaggi, con l'età che passa, però, anch'io insomma, vorrei ricominciare a muovermi, un pochino, non troppo. Grazie Ilaria. Poi se ci sono curiosità da parte degli studenti, al di là dei contenuti, insomma, del corso che ho illustrato, sono qua. Diciamo che ho ancora molto entusiasmo verso questa professione, e di conseguenza anche verso la trasmissione di queste competenze, di queste esperienze, a chi ci darà il cambio nei prossimi anni. Grazie. Voi avete tutti, c'è qualcuno che ha il nederlandese tra di voi? No, avete tutti inglese, francese, tedesco. Prego? Avrei olandese, sì. Come terza lingua, come seconda? Attualmente ce l'ho come terza lingua, perché faccio inglese, tedesco e olandese. Proverai il test con, ci sto ancora pensando, magari come lingua biolandese, e poi inglese. Biolandese? Ce l'ha molto forte? È la lingua la sua lingua più forte? Forse no, però l'inglese ce l'ho già abbastanza forte, quindi volevo provare l'olandese. Però ecco, sto ancora valutando. Sì, allora, sulla questione, ecco, eventualmente, quando ci avrà pensato, se decido di fare il test, naturalmente, mi scriva. Sì, ma comunque, perché non ci è mai capitato di avere l'olandese attivo in magistrale, adesso, a meno, a memoria, adesso io non è che coordino il corso da sempre, va bene che ho la mia età, però lo faccio da due anni. Non mi ricordo, questo lo dovrei verificare, dobbiamo verificare la fattibilità, ma se c'è la richiesta, perché no? Quello che le vorrei dire è, conti anche che l'esame lo deve superare, non voglio scoraggiarla, nel senso che, per accedere a un corso in cui poi ha l'olandese, nederlandese attivo, deve conoscerlo bene. Questo non voglio pregiudicare nulla, capisco il suo discorso, l'occasione sarebbe utile, ghiotta, per potenziarlo, per rinforzarlo. Ci ragioni un pochino, poi magari ne parliamo, ecco, se vuole più avanti, quando avrà le idee magari un pochino più chiare che ci ha riflettuto, o prima di farsi un'idea più chiara, ci possiamo vedere su Skype. Va bene, grazie. Comunque tedesco, inglese e olandese è un'ottima combinazione. a prescindere da quale sia l'attiva. Tutte lingue germaniche per lei. Ok, gli altri hanno tutti francese o spagnolo? O qualcun altro con l'erlandese? No, tutti francese e spagnolo. E tedesco, tedesco l'ho già sentito citare. La struttura, l'edificio l'avete visto, anche se molto, molto rapidamente. Abbiamo delle aule molto grandi, con soffitti altissimi, come forse avete visto. Spazio ce n'è per tutti, c'è anche modo appunto di fruire delle aule per esercitazioni, previo richiesta, soprattutto in questa fase, era necessario prenotare l'aula per verificare la capienza, eccetera, però insomma di spazio ce n'è giusto, Ilaria, non c'è sempre stata la possibilità di... Ecco, le aule di simultanea sono quattro, per cui prima di decidere, vado a fare esercizi di simultanea, bisogna verificare che non ci sia qualche lezione in corso, però tendenzialmente ci sono degli spazi a disposizione e quelle sono a vostra disposizione, potete accedere a una mediateca dove trovate materiale audio, video, poi anche i docenti vi trasmettono materiale audio, video, quello usato a lezione, altro materiale che vi può essere utile per esercitarvi. Ecco. Stavi dicendo qualcosa Ilaria, scusa ti ho interrotto. No, 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 ti stavo rispondendo. Nessun'altra curiosità? Io farei un'altra domanda. Sì, prego, certo. Di nuovo Agatha, sempre io. Sì, 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 mi fa piacere. Per quanto invece riguarda le materie, chiamiamole così, accademiche, le ha accennate prima nell'introduzione, però mi ero un po' persa. Sì, allora, sì, certo. Metodologia dell'interpretazione. Metodologia dell'interpretazione si compone di vari contenuti, tra gli altri ricerca terminologica, compilazione di glossari, utilizzo di questi glossari, ricerche specifiche su determinati settori. Questa è la metodologia di interpretazione che poi viene sviluppata su due anni, quindi in modo progressivo, sempre per aiutarvi in modo più concreto a seguire il vostro percorso di formazione come futuri interpreti. E poi abbiamo i corsi tenuti dalla professoressa Cantalini, che è una professoressa in prestito, diciamo, da noi, dalla scuola di teatro, la Paolo Grassi, ed è una docente di teatro, ossia a voi insegna l'espressione orale e l'italiano applicato all'interpretazione, l'uso della voce, eserciti di respirazione, come far uscire bene la voce, correggere eventuali, non tanto difetti di pronuncia, quanto l'uso, diciamo, per ottimizzare l'uso della voce, per fare meno fatica, perché l'interprete, se lavora una giornata intera, non lavora da solo, però parla per una giornata intera, e alla fine della giornata non bisogna arrivare senza voce, quindi vi aiuta, vi insegna a usare la voce, attraverso tutta una serie di esercizi, di esercizi anche fisici, di movimento, molto, molto, molto utili, interessanti, l'anno scorso alla fine dell'anno gli studenti del secondo anno hanno fatto una specie di saggio, come lo chiamava lei, in modo scherzioso, ironico, hanno recitato quasi delle parti, ma in medesimandosi, era stata una cosa bellissima, commovente quasi, proprio, proprio bravi, perché un interprete usa la sua voce, un interprete deve tradurre dei contenuti in modo corretto, deve capire perfettamente la lingua di partenza, padroneggiare perfettamente la lingua d'arrivo, ma la voce è lo strumento attraverso il quale passano queste parole, questi concetti, più che parole. E poi, in primo anno, c'è il corso di relazioni internazionali, quindi attualità internazionale, eccetera, eccetera, e in secondo anno, linguaggi settoriali, tendenzialmente concentrato, nel primo semestre, questo corso sul linguaggio finanziario, economico finanziario, nel secondo semestre, scientifico, medico scientifico. Ok, perfetto, grazie ancora. A lei. Oltre alla traduzione, che avevo già citato, solo primo anno. Ok, bene, vedo che qualche partecipante ci ha già lasciato, se non c'è null'altro, vi saluterei, ecco, ripeto, non ho fretta, se sono qui a vostra disposizione, però, come dicevo prima, se vi verranno curiosità, domande, dubbi di ogni natura, mi scrivete, se è una cosa gestibile via mail, vi rispondo rapidamente, ma più che volentieri, anzi, mi fa molto piacere, sono disponibili per colloqui online, Skype, normalmente uso Skype, e se avete voglia, vi aspetto alle lezioni, secondo le modalità, che troverete da qui a breve, sul sito, su come iscrivervi e prenotarvi, perché va fatto, nel senso che, quando eravamo ancora, prima, diciamo, della primavera scorsa, ci si presentava a scuola, nell'ambito sempre, delle lezioni, degli orari previsti, e si seguiva fisicamente la lezione, ora non è così, quindi bisogna ricevere un link, avere l'autorizzazione, eccetera, vi faremo sapere al più presto, e se avete voglia, vi aspetto volentieri. Grazie mille, buona serata. A lei, anche a tutti voi. Buona serata. Grazie dell'attenzione, della partecipazione. Arrivederci. Grazie a voi, arrivederci. Arrivederci. Arrivederci, buonasera. Grazie.